DA ECHIOT! Ma c'è il telefono! Salve a tutti ragazzi del Super Fatimbo, io sono Dalvis Io sono Ray E io sono Locke E come ci avete chiesto siamo finalmente su DIVE KICK Oh che figata Su PC Ho due tasti, per chi non lo sa sono due cazzo di tasti Uno per il DIVE e uno per il KICK giustamente Io prendo DIVE Tutti quelli che fanno i gameplay di sto gioco lo pigliano i due personaggi base Vabbè ma sono quelli che capiscono Ma questo è Walter White Ma che era? Sono tutte parodie di personaggi della community dei picchiaduro E tu vai e vieni dentro Vabbè faccio una cosa Oh stai qua, faccio il tecnic Cosa cambia? Tecnic? Ah no tecnic è solo No niente, sono quelle che hanno Ma pia te ne uno per favore Ma che va a scegliere? Tutte due insieme Perchè non neanche nelle freccette c'è niente E ho preso DIVE alla fine E' buono E' duro eh cazzo Cosa devo fare? Perchè c'è anche quello che... Che ha una vita, YOLO è quella che ha una vita sola Ma si viene una casa Perchè fai niente solamente a sto gioco? YOLO Ma io lo muori Ma è che è un gioco serio Ma muori subito qui Hai tipo una cosa... Ma anche te ce l'hai o no? No lui hai preso un'altra E io ho una vita sola E io ho una vita sola Ma hai tutto quanto al 30% in più Cos'è? Di salti, di kick e di mida Magari basta E tu quanti colpi devo dare a lui? Uno E uno basta E ora il cazzo cambia E si ma tu muori Io sono già vinto Fraud detection warning Fraud detection warning Fraud detection warning Dive kick Dive kick Round 1 Dive kick Wow Dive kick Preso Tu puoi controllarlo... Quel personaggio li puoi volare Tipo fai il dive kick Ah ma io... Lui ha cinque round io uno Sì Quando tu fai il dive kick Bene hai perso Eh eh GG ad Aldis GG Ray Vedi proprio Aspetta a cambiare Ma cerchiamo di capire un attimo il gioco Perché Beh Hai già da capire No vabbè ma se è un minimo di E' profondo E' manovra E' già capito Fateci allatterse QUIT Ma che ne sono? C'è due tasti Scusa a caso io Poca troio Cambia pg profumo Oh mio mister Prendo 70 Sech Killian Tu sa Stare gem 10 meter Vabbè 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 In questo gioco più che quello Non fanno quindi C'è usato Il grassone Con e con e Cosa Pijama tipo Eh no il collarino Se gli fai un headshot Il primo headshot Non lo sfugga C'è un solo ring comunque Sì Questa è la ring dell'E E l'Evo E l'Evo E l'Evo E l'Evo E l'Evo Ma se te le porta Headshot Headshot Adesso sei anche Eh no Perché lui è il collare Il primo headshot è bonus Per lui Ma sono avanti Non sono avanti Non ho capito Non vanno avanti Ehi cazzo di dive kick Cioè va solo in avanti Eccolo Lo faccio andare indietro Ma sai cosa Non ci capisci un cazzo Usa il dive kick a terra Poi andare indietro Usa il dive kick a terra E' un'altra Da Esa è strunna Dai Esa è strunna E' strunna Esa è strunna E quindi E quindi E' più lento Attaccalo che strunna Non lo so E' una vera che pararti Si può E' una vera Prova schifo Perché non capisco Cioè C'è un po' quando ci sono due tassi che fanno 1.2 telecom e' un altro del calcio amiche stavo proletti per esempio di fare il parico per l'inverno la risposta carattic fatto in questo gioco attuale su chiama e c'è ancora un sacco la testa sarah e lo sapevo sempre di con la rima da disapare ma adesso la stava estremato vai e vai barbara rientrata con una merda vento di merda a vista e nero aiutare vediamo che abbiamo testazioni sono mille stazioni di sicurezza bobbini con la calma del tempo si fa i tuoi d'accia fine si guarda si guarda non è wave dash sta a terra ferma occhio occhio qua è bella è questa ora è no dai fai tanti ooooh siiii perchè non si capisce alla fine tanti come gioco perchè ti aspetta un momento giuro cambia che si trasporta cazzo ma che cazzo cambia non è uguale ma non vedevi l'animazione ma è uguale perchè la salita è vulnerabile e quindi scusami quindi scusami e per favore e come faccio? e prova e prova non ti fa buttare giù ad altri ma scusa il fatto che lui lì devi sfruttare il fatto che devi avere il teleport è sgravo è sgravo in realtà perchè nella salita non ci sei no ma non capisco quale che fa il calcio sono due tassi perchè te la giochi wow wow tutte due fanno il teleport non è vero lei ma no perchè tu sei teleport ma a terra per forza devi essere in avia per fare un dive kick hai visto un dive kick che arriva da terra devi alternare e vuol dire cazzo devi alternare 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 faccio così alla fine e poi c'è il temore imbattibile ad albis fai prendere un pc che sa no cambia un casino dai dai ma stai schiacciando il dive kick per saltare e poi quando sei a mezzare schiacci il calcio chiacci il salto di nuovo ma perchè io non capisco veramente uno fa il dive e l'altro fa il kick perchè ecco ma qua mi giostro io il campo oh andate a faccio il collarino che mi serve ma che hai messo tipo offside gagna style ma che stai usando uno stick con le mani incrociate credo poi adesso ti riferimenti da capire no vedi capito vai a faccio la gioca gioca no no la mi devo concentrare allora vavi qua vuoi recuperare vuoi fare il comeback ah counter counter dive kick adesso devi fare uno con un pg posso che sceglierlo cazzo porca puttana e soldi vei su e sono i soldi cazzo vei madonna fai selezioni c'è la terza action on seleziochetta oh dottor shawls quello è tipo questo è doom fai full dive e quando vince fai gli demissiles ah al fine è fatto con tutti i riferimenti particolari lui fa cose random ogni round cambia personaggio praticamente questo? no come dire una cosa di trasporto ma ogni round cambia in realtà non è male se tu vuoi due tasti insieme raccogliere le cose per terra si fa un bonus poi non è male io l'ho usato phoenix che mita è la peggiore comunque ma si mi piaccia perché gli altri cosa fanno? una ti fa saltare il pin alto l'altra ti fa fare il calcio più lontano è tattico anche scegliere il bonus giusto è tattico anche scegliere il bonus giusto facciamo fanno above round one dive kick ma questo lo fa tipo uuuu ma poi per premelo di nuovo e faccio di nuovo ma food food dive vedi è vero ehi da bolliccio coglioni vado a provare faccio un food dive di un chilometro mi prende grazie a cazzo laaa ecco il pg non fanno un cazzo in pg e invece l'altro no in teoria è più sgravato adesso arrivi il recupero questo è più tattico perchè puoi fare nambars in teoria nambara nambara ma se prendi due testi hai bisogno di buff per te comunque non mi serve ma sei il dive kick base hai hai capito che non mi serve ah vado a capire solo te scioglie che cerco le prove e trova una vai 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 uuuuh cosa è questo ma vola ah ma ho capito perchè poi con dash indietro è uno sgramato ma come lo uso scusa ehi no devi continuare con due testi e poi vediamo te trovare e siamo di nuovo qua troppo risparmio ma perchè mi sono concentrato ehhh hai due pezzi di quello adesso combatti da uomo devi farlo quando non è lontana ehi cazzo ehi cazzo vi tagPD stavo soffocando ma la salina di posto c'è a faccio vedere che sia la cosa risulta da riguardo e due euro sotto questo vedi per parte di fuori buongiorno si vengono io provo cfd i personaggi ma sono per un'altra la mia storia io non vuoi poi chi che si chi ti dispiace da chi se si si risolva 10 per cento d'arrivo e sceglie uno cazzo e lui che sceglie comunque e ci siamo e ci siamo perché non è un amico lo taglio e davanti era un ci siamo da taglio da attesa vedete tutto questo non fai dive oh cazzo fai pulmini amica lo direzioni hai capito guarda se ti vieni schiacciato lui lo direzioni però è da giocarsela ma guarda ore ore è un training per questo gioco ma che testone ha eh no gli viene più grosso quando ti colpisco ma è figo questo con ogni a me piace il basso è bello perchè ogni pg ha un suo daesco questo è tipo un drop kick questo è un drop kick proprio non anche un dive kick però è difficile avanzare ma lo calco eh con quello lì puoi farlo dritto anche il dive kick è sgravo ma gli viene il testo a essere più grande e quando mi colpisce si fa eh l'ultimo come c'è perfetto eh no ma che se sei vicino alla linea se mi colpisce il mercato vicino alla linea è perfetto ah vero che la vedi dopo arriva dopo eh quella fagatura ok si chiama questo ma c'è ti colpisce a col piedi se non puoi devo ambientarmi che i comandi però eh lo so tu sei questo ah eh perchè è lì post più sgravo perchè tu arriva dopo ma non tradano i danni eh no perchè il suo danno arriva dopo comunque tipo la mossa lì eh vedi ah perchè non colpisce il calcio il calcio il calcio non il calcio colpisce il bullion e quindi non ci conosce un cazzo alla fine eh ah ah va bene ma i sgravo secco del fulmine perché sa via buono c'è pure la frusta ah ma che non la dalle fruste non ci sono le armi non te lascio i dive kick non lo so i dive kick ha ma poi esistono il gioco così ma chi è che l'ha pensato ai tornei fanno ma ne tornei fanno ma nei tornei fanno ma sono seri buono fan proprio che è sto stai il tuo volo a figliare davanti io voglio usare io ho quello che fa tutto a vandu, ma andate a fancura perchè vi voglio solo prendere ogni round adesso ci sto col mid, no col dive ci stai? ci sto, ci sto di brutto selezio, daz selezio o daz? ma io direi facciamo una serie, ormai dive kick ma direi, ma non c'è quello bello c'è gente che gioca online devi fare un Super Mario Bros vs dive ma non c'è nessuno vediamo questo secondo ah, quello che vuole e' stato velocissimo ah, ma non è tipo d'alsim palesemente il tuo e non è il mio, adesso cambia di nuovo ah già è vero e' quello che fai drop guarda, uuuh la lo faccio posso schivare ok che da per te se schiacci quello del calcio per dietro ah, adesso quello di te non volevo darvi queste tecniche che ho imparato però sai come le tecniche dai cos'è? ai poteri del lupo e poi è morto hai seguito due tasche che ti ho colpito no, ma è stavo mis... attiva i due tasti cos'è questo? chi è? ah questo e' Markman la e' ma sto giocando male eh, eh! eh, ehm mi piace ehm eh, non è rapido il cane eh, ma anche... ah, madonna, sgravo? ah, ma è scravissimo sto coso ma fa sempre diverso e' ogni volta è un personaggio tipo un cucina e' perchè tu fai... fai solo avanti fare... ah, adesso io dai ma, adesso io dai minchia ah, ho cazzo partito è un bouncer è un bouncer che e' questo? ah è lui stesso è il cane portato a riferire c'è da uno pari strozo un pari strozo io ti batto coi vandum facciamo un cazzo di lupo e poi mi chiamo mangiare io ho fatto certo dai che poi cambiamo perché facciamo l'ultima e faccio l'ultima e poi lo faccio un'altra 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 ah si si eh oh scusa vuoi sfuggirli così io ando su grounding che mi piace sta cosa che ci sopra sì bravo sorprende tutti tanto non è che una rosa ci sta io l'ho usata prima ho usato design nuovo ah però perchè puoi fare tecnio bible auto button punta punta few dove come come il doom di lost of the world è vero ma in fa misura due tasti infatti è uguale davanti forte e launcher animadd inoi due percorso pietro guai il picco e c'è ma ma non so e non è un'ultima seconda è vero ma c'è anche il tempo ma fa morire anche che c'è tutta la barra della vita c'è dovremmo mettere un pallino ma ci siamo uguali DA TRADE, DA OKO vedi che c'è il trade c'è non c'è il trade c'è DA OKO alla fine ah non c'è ma lì che cazzo niente lì che cazzo niente vado e tu non sai che cazzo niente adesso dive dovresti provarlo su di DAH putt dive sgravo lumina lumina come si fa? ma sai come si fa? voglio dire ho scherzato due tassi in aria ma non lascia rilugare qualcosa non guardi chi è questa? ah questa è la scusa ma stivoreccio ACCIA PROPRIO mi comincio bene poi mi rilascio eh no ti fanno pensare che non mi rilascio eh non cazzo faccioli hai schimmato eh 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 dai chi è? è la cinesta del cazzo ah che culo ma tu mi hai addosso come un bovino proprio eh no vabbè non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace spalla tipo chi è questo? wow si lascia non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace devo scambiare qua si ok non puoi prendere la tastiera? ok cario ragazzi qua con torsionismo oh ah bravo occhio ai cambi dello stick minchia però adesso mi ero capitato con quello come faccio con quello? eh un casino ma la tastiera è un casino passata la tastiera ne vedi passata la tastiera perchè lo so as 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 ci siamo ad albis ho fatto quinto aspetta dai vabbè tutti i video li ruttare cazzo a cinesina no abbiamo toccato eh fa schifo a cinesina eh non abbiamo mai visto anche il sensei che vuoi fare sarà quello standard tipo dive kick beh eh eh è originale no 15% meter inutile inutile 10% meter farti vedere bene in faccia devo capire come mettere le facce qua se farle tipo versus o secondo me le metti tu in un angolino tutte boh è tipo ma cosa fai con i piedi con le dita con le dita proprio con le dita perchè il gioco è che c'è un po' ma se si è sotto voto però avanti quindi è un po' di piedi a lui non sa aspetta che lui non lascia due volte indietro cazzo ma è strano lui ci si tiene continuazione ehm 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 figo l'inizio del comeback è l'Heltshaw ehm guarda che è scavato è lui è un tipo vivo si è vivo della situazione ma c'è ma c'è ma c'è però non lascia non lascia niente uh ma porcavo ma questo ha due kick diversi quando sono a mezz'aria ma vedi puoi fare scavare io questo e l'altro il pugno il pugno la usa cambia e uno vai avanti round 7 ah no come non ho detto come non ho detto la headshot pezzo di merda nooo nooo vero che sei usato la deletta a buzzi usa usa e dai devo attacchiare e non approfittare double kill double kill headshot perfetto rematch non è figa e no e dove è mazzo ahhhh cazzo counter headshot il comeback video ad albis un counter headshot fatto eh pensavi di andare addosso con un negro eh senza spesa ai presenti non è che vanno addosso double headshot 3 zoom double kill e vince dalbis che spezia dalbis spezzo di merda che scrivo dalbis basta 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 cambierci oltre albis per la realtà e ti crediamo online a cercare il culo a tutti ma allora mentre so può anche arrivare chris g chris g chris g e schiacciare uno se l'hai giocata se l'hai giocata allora se l'hai giocata io ho perso l'udito non è che ho visto però vabbè prendi io ho preso mister n che non credo e qua del fondo questa abbia già visto no forse no se abbia già visto ma che cazzo vuoi dalla vita la mia mamma il mio figlio il mio figlio se porto con tutto per dire se l'euro se l'euro vabbè rosa che schiloro ma ero per la parte del panzone rosa per la parte rosa 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 vince questo vince tutto il suo potere di polaga un potele che ha anche un po' rosa rosa lo direzioni uoooooooooo ma c'è tanta roba tanta roba tanta roba tanta roba ha compito perchè lui non lo fa subito quindi leziona o preli la headshot 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 devo stare attento perchè se parte lentissima sta cosa fai attenzione fai attenzione fai attenzione fai attenzione e zucchiamelo no è double che io meglio che pigliarmelo in culo e basta eh 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 hai capito qualche volta metti il lag eh 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 oh eeeh eeeh preso preso lo che tutta abilità round one dai vieni da vieni vieni volevo vedere che cazza volevo vedere se faccia tipo di saliva Non vado a scattare Beh io me la gioco adesso Diggio che me la gioco GIOCA SAFE Uhhh ancora preso Te l'ho pulito dal naso a piede E' bello sul gioco 7 A direzioni Dai ho cancellato su un piccio Schivo Mi penetro Mi penetro Sì hai mai detto che ho schivato? Vieni su chiama il cazzo Guarda guarda chi sale Ha capito Ha capito Dalvis Dalvis ha capito Round 9 Qua è big match eh Preso perchè ho redirezionato Mi ha preso Mi ha preso e mi ha direzionato Ho redirezionato Adesso andiamo online L'ho ancora persa una Vai online adesso Adesso andiamo via Ma non rimatch ancora Dai un rimatch veloce Adesso fai random Faccio random Alls 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 Non mi ha imparato Non mi ha imparato Ma ci gioca pure una donna un picchio a due tasti Senza offese a prendere donne che si disiscrivono Scusate donne in ascolto Vi amiamo tutte perchè Lok fa disiscrivere le donne Ma non ne avevo solo una No no si è pezzo di merda Chiè? Uh c'è tu Ah d'umè, uh che schivata Ma che è uno staglio Ma che è uno che è uno giallo Mi che si salta bassissimo per il mio E' un sacco 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 E' quello lì E' un sacco bravo ti piglia per il culo no preso no forse hai i frame nooo ma il lupo è scavissimo questo è il lupo è un p cazzo il lupo ma qua però non è questo è il senso eh ma quello è quello sgravo ci arrivo ci arrivo ti faccio lo shoryuken dive kick ma dovrebbero creare un gioco così coi tatsu però tatsu kick eeeh voglio parmi di strago eeeh round 5 ah ho kick eeeh io ero fermo lì e non ci capisci un cazzo parte la rimonta di adalbis ma non serve due tassi ne hai dai dai tenuto caricato eeeh perchè coi random io ho visto che mi studio i match eeeh bello comunque ma comunque è simpatico davvero da giocare in compagnia è bello mentre sei lì che fai dive kick sei in tensione vedi siamo in compagnia tre amici che si mettono a giocare a dive kick quindi commentate se mi piace facciamo una serie solo di dive kick ma forse tre video a settimana di dive kick anche questo al posto di ingiassi super diving channel al posto di ingiassi ci mettiamo qualsiasi cosa facciamo un canale apposta per dive kick è possibile bene bene noi siamo i supermetti bros io sono adalbis e io sono lok ci sono i commentati a volte un commento merita più di una riscorsa schifre qua ma ragazzi come altro ma no ragazzi davvero ti sono visto sopra c'è una secca di vedere pepe adesso fai rematch aspetta adesso fai rematch di brutto ma figata ragazzi cosa fai? devo stoppare